Ciao a tutti ragazzi, questo video non era in programma, anzi avevo già registrato anche il contenuto che avrei voluto portarvi in questo pomeriggio, lo slittiamo a domani dato che è un contenuto abbastanza immortale con anche un bel ragionamento profondo, perché oggi è successo qualcosa, è successo qualcosa intorno a mezzogiorno, avrete letto tutti anche su OneFootball, app che vi invito a scaricare, il link per scaricarlo qui sotto in descrizione oppure scannerizzate con la fotocamera del vostro cellulare il QR code che vi appare in sovraimpressione dove rimanere appunto aggiornati su tutte le notizie che poi i vari giornalisti vanno a dare nei confronti della Juventus, OneFootball è un raccoglitore vero e proprio di notizie per non dover andare a pescarla in giro per il web, aprite l'app e appare tutto lì, fatelo scaricatelo gratuitamente qui sotto, ve lo consiglio, a mezzogiorno esce la notizia secondo la quale Paolo Di Bala domani, Paolo Di Bala e Juventus si sarebbero incontrati insieme a Organtun per discutere del rinnovo di contratto dell'argentino. A parte la sensazione di déjà vu che mi dà questa notizia e quindi tutte le volte insistere sul discorso che il procuratore Di Bala e Juventus andranno ad incontrarsi, mi sono fatto una domanda, perché mai dovrebbe venire Antun dall'argentina per parlare ancora con la Juventus di questa cosa? Ne abbiamo parlato anche sul canale di Lello, abbiamo fatto un video con Davo Mechino insieme a Lello perché era il suo canale e lì abbiamo pensato, vi invito a andarvelo a vedere, che potesse essere davvero accaduto qualcosa tra Di Bala e Juventus, credo che sia l'unica cosa certa, perché se no semplicemente avrebbero firmato il rinnovo del contratto. Devo dire la verità, questa situazione sta iniziando a diventare anche abbastanza stucchevole e nauseabonda, al di là del fatto che a me Di Bala, un giocatore piace e tanto, io ho comprato tantissime maglie di Di Bala negli anni, lo considero leader tecnico, ho parlato sul canale di Lello, ho parlato sul mio canale, ho rilasciato anche a Nicola Bellice una breve intervista per il Corriere di Torino e io ho sempre detto la mia, Di Bala è un giocatore che alla Juventus deve rimanere, però diciamoci la verità, la gestione dell'immagine del contratto di Paolo Di Bala sta iniziando a risentare il ridicolo, non tanto per la Juve, non tanto per Di Bala ma per noi, per noi che non abbiamo informazioni, per noi che dobbiamo soltanto attenerci al fatto che sappiamo per certo che se sono incontrati, che avevano l'accordo, che se uno chiedeva di più, uno offriva di meno, poi l'accordo non valeva più, poi adesso ci sono altre offerte, noi questo sappiamo. I media questo ci dicono, anche gli intervistati, i diretti interessati intervistati, ci dicono cose che vanno a coprire questa verità, vanno ad incastrarsi in questa verità e quindi il fatto che qualcosa tra di Bala e Juventus si sia rotto è evidente. E allora il ragionamento è perché mai Organtun dovrebbe venire dall'Argentina a trattare ancora con la Juventus? Io infatti dopo che avevo letto il discorso che domani sarebbe stato confermato l'incontro, ho scritto questo su Twitter e cioè lo dico? Sì, lo dico. Perché se hanno fissato davvero a domani l'incontro tra Juventus e Organtun, io immagino che si voglia continuare insieme. Questo spiega anche il perché Organtun arriva dall'Argentina. Dall'altra parte si poteva anche immaginare un'eventualità del tipo, da butto lì, l'Inter ha offerto effettivamente 7 milioni e mezzo all'anno a Paolo Di Bala, Paolo vorrebbe comunque continuare con la Juve, pareggiate questa offerta, aumentate l'offerta che fate, perché se no l'idea dell'Inter, o qualsiasi altra squadra, potete mettere in considerazione qualsiasi altra squadra, se no Paolo inizierà a costruire il suo futuro. E quindi l'opportunità di Organtun di andare a trattare con la Juve, sapendo che in mano c'è qualcosa di concreto da altre parti. Però poi dico, la rottura definitiva con Di Bala a tre giorni dalla Samp e a sei giorni dal Villareal, perché sarebbe stata domani, sarebbe roba da principianti ragazzi. Cioè, non prendiamoci in giro, se questo arriva giù dall'Argentina, per parlare ancora con la Juve, ancora una volta con la Juve, dopo che hanno già parlato mille volte insieme, mille volte hanno parlato, eh? Organtun era a Juventus, prima era lui che non era un procuratore, e poi la Juventus ha fatto l'offerta, e poi non andava più bene, e allora poi Di Bala doveva scegliere se fare l'offerta con il procuratore o senza, allora poi l'offerta è ribasso, allora poi forse la Juve non lo può, poi forse ci incontriamo a marzo, poi in realtà è l'assemblea degli azionisti, poi in realtà aspettiamo un attimo, nel frattempo altri nuovi come quello di Quadrado, fresca notizia, e anche quello di Bernardeschi, stanno andando avanti, forse De Sciglio, forse Perin, si sa già bene o male che cosa vorranno fare, questi giocatori si stanno incontrando con la Juventus, non ci sono ancora ufficialità, ma sono giocatori con tutto il bene, con tutto il rispetto, Perin, Bernardeschi, De Sciglio, che vengano dopo Paolo Di Bala nelle gerarchie di importanza della Juventus, sia tecnica sia economica, possiamo fare un discorso diverso per Quadrado, ma dall'altra parte possiamo dire che è un giocatore ultra trentenne, e che la Juventus sta cercando di rinnovare non più come titolare insostituibile, imprescindibile, ma come giocatore utile anche da giocare a partite in corso, e quindi io l'ho detto, se davvero si incontrano domani, c'è un solo motivo, e cioè le parti vogliono continuare insieme, Juventus vuole sottoporre a Paolo Di Bala un rinnovo del contratto, Paolo Di Bala vuole andare avanti con la Juventus, e si firma, perché se si va verso l'artura totale tra Di Bala e la Juventus, a tre giorni dalla Sampdoria, e a sei giorni da Villareal, è follia, è semplice follia, ma questa è pura logica, e io questa cosa l'ho detta all'una, all'una e mezza, quindi un'ora dopo, un'oretta e mezza dopo, che avevano confermato l'incontro, perché davvero mi sembrava logico pensare che davvero domani l'incontro? Allora si chiude, o si rimanda, ma comunque non si rompe definitivamente con la Juventus, è impossibile, sarebbe veramente una roba fuori di testa, e la notizia invece più recente è la seguente, cioè che l'incontro Torgantù nella Juventus è rinviato a data da destinarsi, e allora se un ragionamento fatto a priori, prima di sapere del rinvio, mi aveva portato a pensare che, se davvero si fossero incontrati domani, sarebbe stato per siglare il rinnovo del contratto, o comunque limare qualche dettaglio, questo rinvio è adatta da destinarsi, dopo la Champions, sicuramente, ed è una cosa intelligente, questa è una cosa intelligente da parte della Juve, inizia a puzzarmi, inizia a essere quasi un'idea che Torgantù e Paolo Di Bala vogliano incontrare la Juventus, sì, lo vogliono fare, per parlare con la Juventus appunto di altre offerte che magari Di Bala ha già in mano, e per mettere pressione alla Juventus e dire, ragazzi, se no, noi accettiamo altro, quindi questa lettura mi fa pensare che, Di Bala e il suo popolgatore si stiano muovendo nel modo migliore possibile nei confronti della Juventus, non società ma squadra, quindi la volontà di Paolo Di Bala di proseguire con la Juventus, perché se ci incontriamo prima della Champions, significa che da parte mia, Paolo Di Bala, c'è la volontà di proseguire insieme, non verrei mai a rompere adesso, in questo momento storico, e che la Juventus magari ci abbia pensato a questa cosa, perché dalla sua volontà, dalla sua parte, non c'è questa necessità di continuare insieme a Paolo Di Bala, quindi mi sembra in questo momento la lettura più facile di tutte, mettendo insieme tutti questi elementi e questi pensieri che nella giornata di oggi mi erano venuti in mente, secondo me, perché sempre secondo me non sono notizie, sono ricostruzioni mie, logiche, secondo me, Di Bala vuole rinnovare con la Juventus, Di Bala ha in mano altre offerte, tra cui davvero quella dell'Inter, Organtun vorrebbe parlare con la Juve per dirgli ragazzi, Paolo vorrebbe rinnovare, e attenzione che l'Inter ha fatto l'offerta, e sapete bene la rivalità, sapete bene il gap, sapete bene quello che è, se non rinnoviamo, se non troviamo l'accordo, se non capiamo come incastrarci, c'è caso davvero che poi Paolo vada a firmare per l'Inter, e Paolo non vorrebbe passare per il traditore, perché se no non si spiega, perché se no, se c'era davvero questa fantomatica offerta, questo incontro tra Di Bala e la Juventus, e poi la Juventus l'ha tolta, e non l'ha più rimessa, e adesso la mette a ribasso, però poi dopo la Champions, perché c'è il rischio, davvero che poi Di Bala ti dica di no, io non trovo altre letture diverse da questa, e cioè, la Juventus andrebbe avanti volentieri anche senza Paolo Di Bala, andrà a offrire a Paolo Di Bala un rinnovo, molto a ribasso, molto diverso, da quello che era stato trovato in ottobre, e per Paolo sarà un prendere o lasciare, quasi una volontà di mettere l'amore e la passione Juventus e la sua storia, proseguire la sua storia a Juventus quasi come un privilegio rispetto ad alcune cose tipo il livello economico, i bonus, la parte fissa, la parte variabile, questa è la mia ricostruzione, cioè, mi immagino a Juventus che dopo Villareal vada a incontrare a Argantù e gli dica se l'obiettivo era raggiungere 10 milioni, allora facciamo che sono 6 fissi, 6 e mezzo, 7 e il resto è tutto bonus, da tifoso della Juventus personalmente questa la ritengo assolutamente la strada giusta da seguire, questo è un contratto che farei firmare immediatamente a Paolo Di Bala, me l'avrei fatto firmare ieri rinnovo a Paolo Di Bala, lo sapete, dalla parte invece della trattativa, essendo una trattativa che ci portiamo avanti ormai da anni, e da anni che giorno dopo giorno leggiamo le stesse cose, devono incontrarsi, si incontrano, rinnovo, eh, e siamo ancora qui, dovevano farlo prima del 31 di dicembre, prima del fatto che Di Bala potesse firmare gratis con altre squadre, cosa che non ha ancora fatto, e ancora una volta ti dico, se dopo tre mesi che può firmare gratis con chiunque e non ha ancora firmato con chiunque e le offerte molto probabilmente ci sono, è perché Paolo Di Bala vorrebbe rimanere alla Juventus, e invece secondo me la Juventus in questo momento è molto spaventata dal discorso legato agli infortuni di Paolo Di Bala, e ci sta, però allo stesso tempo ti dico, allora prima non c'era da sottoporre questo contratto a Paolo Di Bala, c'era da dirgli aspettiamo, ragioniamo, vediamo, perché senza il discorso legato al procuratore, secondo la narrazione degli eventi da parte degli addetti ai lavori, Paolo Di Bala e Juventus avrebbero rinnovato, e allora perché adesso una delle due parti si sta tirando indietro e con gli elementi che abbiamo a disposizione l'unica cosa sensata da poter dire è che è la Juventus che sta tirando indietro a mano Paolo Di Bala invece che vorrebbe insistere e io ve la butto lì, magari anche a fronte del fatto che davvero l'unica offerta concreta che potrebbe avere in mano Paolo Di Bala potrebbe essere appunto quella dell'Inter e voi mettetevi nei panni di un Di Bala che vuole rinnovare, che si incontra con la Juventus, ha già fatto tutto, sta per rinnovare, poi il procuratore non può e quindi ci diamo appuntamento nel frattempo si fa male la Juventus cambia idea e dice ci riaggiorniamo poi dopo il CDA dopo il CDA c'è ancora questa volontà della Juventus e di Di Bala di incontrarsi ma la Juve ti dice lo facciamo poi post Champions con Di Bala che in questo momento ha in mano due offerte quella di rinnovo della Juve che non è più valida e quindi bisogna rincontrarsi per ridiscuterne quella dell'Inter che da lato suo d'accanto suo non vuole accettare perché vuole rimanere la Juventus perché vorrebbe rimanere la Juventus queste sono tutte ipotesi e quindi dice incontriamoci perché se no mi tocca seriamente ragionare su quell'altra non lo so come sia la realtà non so quale sia la realtà sicuro come loro qualcosa tra Di Bala e la Juventus è successo che noi non sappiamo che i giornalisti non sanno gli organi di informazione non sanno ma qualcosa un attrito è successo e lo sappiamo dalle parole di Riva Bene dall'esultanza non esultanza di Riva Bala dal fatto che si continua a rimandare questo incontro e guarda caso oggi lo rimandiamo addirittura a post-Champions che è super logico ma ha una sola lettura e cioè che la Juve in questo momento è ben disposta a rompere con Paolo Di Bala questa è la mia ricostruzione io non vedo altre strade non vedo altre circostanze diverse da questa poi magari mi è sfuggito qualcosa ma secondo me i pezzi del puzzle si incastrano alla perfezione e anche la lettura del fatto che Di Bala possa avere l'unica offerta la parte dell'Inter potrebbe essere vera e questo potrebbe spingere in direzione di Paolo Di Bala nel senso che mi farebbe piacere di sapere che un Di Bala non vuole andare all'Inter ma che forse davanti a questa prospettiva è forse costretto se sei Di Bala e hai solo l'offerta dell'Inter e io non vuoi rinnovare cosa fai? stai fermo? non lo so io non ho idea di cosa stia succedendo io sto dicendo semplicemente la mia opinione però ogni tanto a pensarci male ci becchi fatemi sapere un po' la vostra grazie a tutti